Fiorentino Vecchiarelli, domani pomeriggio, ancora una volta in centro città al circolo della stampa un evento dell'Accademia dei Doiosi. Sì, domani pomeriggio presenteremo il libro di Stefania Guiotto, I racconti dell'uomo nuovo, che più che la presentazione di un libro sarà un dialogo con l'autrice che noi faremo, una donna, devo dire, di grandissimo spessore umano e culturale, che ho avuto l'opportunità e anche la fortuna di conoscere qualche anno fa un modo di apprezzare la sua grandissima sensibilità che viene tutta fuori dalle sue opere, sia come artista, perché lei è anche una pittrice, ma sia anche come scottrice. È un argomento davvero molto interessante e sarà un pomeriggio dove si alterneranno interviste all'autrice fatte dal nostro carissimo Gianluca Matucci a interventi musicali che inframezzeranno i vari momenti, quindi un pomeriggio di grande interesse culturale, possiamo dire letterario, musicale, a cui invito tutti ad intervenire e a partecipare.